Taglio del nastro per il cantiere del liceo Colletta di Avellino che presto avrà un nuovo padiglione. L'intervento sarà finanziato dalla provincia all'inaugurazione dei lavori il presidente Gambacorta, il provveditore Rosa Grano e i dirigenti dell'istituto. Siamo molto contenti di aver portato a termine questa fase propedeutica all'inizio dei lavori che è sempre la fase più complessa, quella della progettazione e delle gare d'appalto. Avevamo preso l'impegno con gli studenti di questa provincia, con i dirigenti scolastici, con i genitori che appunto avremmo investito sull'edilizia scolastica. Lo stiamo facendo, questo è il primo segnale concreto che diamo alla provincia oltre ai tanti piccoli appalti che abbiamo anche fatto di recente. Un segnale importante perché il liceo Colletta di Avellino è un istituto storico di questa provincia lo abbiamo messo in sicurezza dal punto di vista degli iscritti con l'unificazione con il liceo di Pietra dei Fusi. Garantiremo spazi, molte aule, molti laboratori e credo siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto.